Musica Alfonso Oliva, candidato al Consiglio Comunale nella lista Progetto Democratico per Aversa a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Stabile. Lei è alla sua quarta candidatura, come mai ha scelto di ricandidarsi? Ho scelto di ricandidarmi, ma soprattutto ho scelto di ricandidarmi al Consiglio Comunale al supporto di Giuseppe Stabile e la lista Progetto Democratico per Aversa perché ho visto, ho individuato in Giuseppe Stabile una persona che ha un'esperienza ed una competenza tale da poter sicuramente amministrare in maniera ottimale la nostra città di Aversa. Ho deciso di scendere in campo nuovamente perché nell'ultima amministrazione nella quale ho rivestito tra gli altri la carica di assessore agli eventi, alla cultura e allo sport ho dato inizio ad una serie di importanti eventi per la nostra città, una serie di importanti iniziative per la nostra città e ho intenzione, ove la nostra amministrazione vincesse, anzi mi auguro la nostra coalizione vincerà, di portare a termine per l'appunto questi eventi. Tra le più importanti attività che abbiamo intrapreso e che devono ancora concretizzarsi sono le universiadi, appunto le Olimpiadi e le università che si terranno tra giugno e luglio ad Aversa e che, la cosa importante per la nostra città appunto, hanno portato alla ristrutturazione dei due più grandi contenitori, chiamiamoli così, sportivi, delle più grandi strutture sportive di Aversa che è il palazzetto dello sport e lo stadio comunale. Grazie all'evento universiadi, la cosa più importante per la città, resterà appunto ad Aversa la ristrutturazione di queste due grandi strutture che in questo momento è in itidere, i lavori sono stati appaltati e sono in esecuzione. Per quanto invece riguarda la cultura, un altro tema a me molto caro, dopo l'inaugurazione della Casa Cimarosa e degli eventi che ancora oggi vanno avanti grazie appunto al progetto Cimarosa Torna a Casa e poi al Festival Cimarosa Gli Ombelli, c'è ancora da fare qualche altra cosa quindi avevo in mente e ho nel cuore di istituire la fondazione Domenica Cimarosa una fondazione che possa far sì che la casa sia una casa museale, una casa di eventi e di cultura e che appunto ruoti tutto questo intorno alla nostra città e questo ovviamente è anche un volano per quanto riguarda il turismo. Sono cose importantissime per questa città e diciamo attività sulle quali punti del nostro programma, sui quali il candidato sindaco Giuseppe Stabile ha posto l'attenzione, una grandissima attenzione e che sicuramente saranno punti cardine di questa amministrazione comunale. Quali sono altri punti fondamentali del vostro progetto politico? Beh, come a più riprese detto il mio candidato sindaco Giuseppe Stabile sono quelle di riportare Aversa alla normalità, alla viabilità ebbene queste sono motivazioni che mi hanno indotto a scegliere la candidatura a servizio della coalizione di Giuseppe Stabile cose che non ho visto degli altri quattro candidati alla carica appunto di sindaco amministrare Aversa non è un gioco da ragazzi ci vuole tanta esperienza e ci vuole tanta competenza bisogna impegnarsi a fondo e bisogna essere dei conoscitori di quella che è la macchina amministrativa non ci si improvvisa sindaci la sera per la mattina soltanto per una verità, per un selfie amministrare Aversa è una cosa veramente difficile, importante e credo che l'unica persona che possa farlo con cognizione di causa sia appunto Giuseppe Stabile ci sono gli altri candidati sindaci che parlano per slogan altri candidati sindaci che non parlano invece perché è come se fossero tutorati e questo per me che faccio politica in prima persona da 12 anni, per me questo è una cosa molto negativa perché bisogna metterci la faccia e soprattutto bisogna dimostrare che chi amministra e chi innanzitutto chiede il voto sia la stessa persona che dopo vada ad amministrare grazie grazie